Sarà un misere segreto, in questo video andremo a vedere il libro Il potere dello scopo di Les Brown. Brown è uno dei motivatori più famosi degli Stati Uniti, molto famoso per la sua filosofia di vita, ma anche per la sua carriera in generale, considerando che ha avuto successo anche in politica. Lui ci offre dei suggerimenti molto utili per migliorare la qualità della nostra vita. Cominciamo subito con il riassunto del libro. Se riuscite a trovare quello che potete fare, questo vi potrà salvare la vita. Brown dice che la stragrande maggioranza delle persone subisce infarti dalle ore 8 alle 9 del mattino perché sono persone che odiano andare a lavorare e di conseguenza questo tende a consumarli giorno dopo giorno. Per questo diventa essenziale scoprire quello che amate fare. Potete farlo part-time se dovete per forza mantenere il lavoro attuale, ma d'altra parte dovete assolutamente cercare di capire cosa amate fare. Dopodiché cominciate ad occuparvi di quella passione, seguendo corsi, leggendo libri, chiedendo consigli agli esperti in quel campo e piano piano cercate di preparare la strada verso quella passione per poter essere in grado in futuro di farlo a tempo pieno. Numero 2. La paura è il maggior ostacolo al successo. La paura è una falsa evidenza che appare reale. Molte persone hanno paura di inseguire i propri sogni. Secondo Brown questo avviene perché queste persone non riescono a vedere chiaramente loro stessi in possesso di quello che vogliono. Questo fa sì che il desiderio non sia più forte della paura, costringendoli a fermarsi. Queste persone non riescono a vedere se stessi fuori da quel lavoro, lontano da quella relazione che non funziona, lontano da persone con cui non vorrebbero stare, eccetera. La paura uccide la speranza, i sogni e ammala le persone. La paura riesce a paralizzare i vostri talenti. Voi sapete di essere in grado di fare qualcosa e ciò nonostante non la fate perché avete paura delle conseguenze negative che ci potrebbero essere. Così ignorate i benefici che quell'azione potrebbe portarvi. Qualsiasi cosa decidiate di fare comporterà rischi, vi farete dei nemici, perderete qualcosa di importante per voi, ma comunque dovete sempre chiedervi permetterò a questi fattori di frenarmi oppure no. Se lo permettete, continuerete ad avere quello che avete. Numero 3. Posso riuscirci? Spesso le cose migliori che ascolterete riguardo a voi stessi saranno dette proprio da voi. Dovete servire da fonte di motivazione a voi stessi e non essere l'ostacolo principale nella vostra vita. Spesso le persone passano il tempo criticando se stesse per tutti gli errori che hanno fatto e non spendono nemmeno un minuto analizzando i successi. Questo è uno dei più grandi ostacoli alla ricerca del vostro scopo su questo pianeta. Dite a voi stessi Sono fiero di te Incoraggiate voi stessi Non preoccupatevi di quello che vi manca Concentratevi sul vostro sogno e agite subito senza pensarci due volte. L'inizio sarà difficile ma arriverà il momento in cui comincerete a raccogliere i frutti dei vostri sforzi. Una cosa però è sicura se non vi muovete non succederà niente. Alimentate la vostra positività non solo guardando video che vi aiutino a fare meglio ascoltando podcast, leggendo libri ma anche motivando voi stessi. Brown consiglia di allontanarsi dalle persone negative che danneggiano il vostro stato d'animo dovete cercare di rimanere costantemente ad un livello elevato di energia positiva perché questo è il principale ingrediente del successo. Avere un quaderno del vostro sviluppo personale potrebbe aiutare perché lì potreste scrivere tutte le vostre idee e analizzare come vi sentite ogni giorno. Essere positivi, persistenti e continuare ad agire a prescindere dai risultati che si raccolgono è il segreto di ogni successo. Quello che diventi è più importante di quello che ottieni. Avere grandi obiettivi aiuta perché secondo Brown quello che dovrete diventare per raggiungere quell'obiettivo è più importante dell'obiettivo stesso. Formare le abitudini dei ricchi avere le loro conoscenze e capacità una forte personalità creatività è più importante del denaro. Molti di voi diranno non è vero i soldi sono più importanti. La risposta è no perché se avete quelle conoscenze e perdete tutto il denaro lo potrete guadagnare di nuovo perché sapete come fare. Mentre coloro che vincono alla lotteria finiscono per perdere tutto in pochissimo tempo. La maggior parte delle persone non vuole uscire dalla propria zona di conforto e preferisce fare le cose che sa fare bene. Se volete crescere se volete migliorare se volete diventare più capaci forti ricchi dovete uscire da quella zona dovete espandervi dovete imparare e migliorare costantemente. Noi dobbiamo continuamente sfidare noi stessi per capire i nostri talenti e imparare quello che siamo in grado di fare. Agire ogni giorno come se fosse l'ultimo. Brown consiglia di darci da fare di agire al massimo di fare quello che amiamo fare e dedicare ogni giorno tempo alle persone a noi cari. Se agite come se ogni giorno fosse l'ultimo allora riuscirete a vivere una vita meravigliosa e a raggiungere il vostro potenziale massimo. Ma se non lo fate sarete continuamente guidati dalla paura. Se non crescete in continuazione avrete una vita deprimente. Secondo Brown noi esseri umani siamo programmati per crescere e servire. Non c'è un limite a questo. Solo crescendo e servendo possiamo veramente sentirci realizzati e felici. non facendolo faremo fatica a trovare il senso alla nostra vita e a godercela perché finiremo per sprecare il nostro tempo. La confidenza cresce attraverso la competenza. Brown suggerisce di leggere di studiare di acquisire competenze e diventare sempre più bravi perché questo incrementa il nostro livello di autostima. Diventando più capaci vi sentirete meglio con voi stessi e di conseguenza sarete anche più credibili all'interno della vostra comunità a prescindere dal successo che avete raggiunto dovete continuare a migliorare finché siete su questo pianeta. Vivere ogni giornata con integrità. Non cercate di fregare gli altri spesso tendiamo a dire questo è solo una piccola bugia non ci sono problemi purtroppo ogni cosa conta ogni cosa influisce sulle nostre vite dovete essere moralmente corretti con voi stessi e con gli altri. La qualità della nostra vita dipende dal nostro grado di dedicazione se la dedicazione è bassa anche lo standard di vita lo sarà perché? Perché noi dobbiamo riuscire a trovare una causa che sia più grande di noi stessi a cui dedicarci non dobbiamo passare la vita seguendo gli altri dobbiamo trovare la nostra direzione quello in cui crediamo e impegnarci per dare il nostro contributo. Benjamin d'Israeli diceva nessuno potrà mai resistere alla volontà di una persona di sacrificare pure la propria esistenza per il raggiungimento del proprio scopo. Meglio soffrire a causa delle delusioni piuttosto che di rimpianti. molte persone non agiscono perché hanno paura del fallimento delle delusioni delle sofferenze ma quando invecchiano cominciano a soffrire di rimpianti per non aver fatto la vita che volevano fare. Purtroppo è così non esiste una via di mezzo dovete darvi da fare oggi per avere il futuro che desiderate domani altrimenti il futuro sarà un incubo e probabilmente non avrete più le opportunità per recuperare non fatevi controllare dalle paure o dalle opinioni delle persone che vi circondano nessuno deve credere in voi voi siete gli unici che dovete credere in voi stessi pensate per un attimo a come potrebbe essere la vostra vita se non prestate attenzione a queste opinioni e fate quello che vi sentite di fare con coraggio usate il vostro passato a vostro vantaggio Brown spiega come molte persone ricche specialmente nel settore dello sviluppo personale facciano spesso riferimento alle proprie storie personali per motivare la gente e guadagnare denaro Brown ad esempio non è andato all'università aveva un certificato in cui praticamente si diceva che non era totalmente sano mentalmente altri leader nel settore come ad esempio Jim Rohn Tony Robbins eccetera hanno storie simili e ciò nonostante fanno da mentori a miliardari a persone che sono andate ad Harvard molti di noi forse cercherebbero di nascondere tutto questo ma invece non bisogna farlo bisogna cercare di trarne vantaggio perché se gli altri vedono i vostri progressi e sanno da dove siete partiti tenderanno a credervi maggiormente infine i vostri primi 20 minuti appena svegli sono i più importanti della giornata durante quei minuti il subconscio è molto suscettibile perché vi siete appena svegliati ricordiamo che la coscienza durante il sonno è inesistente il subconscio è alla sua massima potenza per questo se vogliamo imprimere nuove idee desideri obiettivi nel nostro subconscio dobbiamo farlo appena svegli quello è il momento di leggere le vostre affermazioni i vostri obiettivi le frasi che vi motivano eccetera dedicate quindi quei 20 minuti a voi stessi questo era il libro Il potere dello scopo di Les Brown si tratta di concetti che ci insegnano a vedere la nostra vita e il nostro futuro con occhi diversi spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio della vostra attenzione ci risentiamo nei prossimi video ciao vi ringrazio vi ringrazio